ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina oggi come potete vedere c'è questa bella padella con aglio e olio andrò a fare il condimento per la pasta con carciofi e patate e pomodorini allora come prima cosa accendiamo e facciamo diventare biondino l'aglio a questo punto aggiungete i pomodori patate tagliate così o come volete e carciofi così fate scoppiettare a questo punto uno scoppiettamento veloce aggiungete tutto il resto un po di sale prezzemolo fresco e un bel bicchiere di acqua e lasciamo cucinare ovviamente con il coperchio e fiamma bassa quando sono cotte le patate le schiacciate grossolanamente e poi cucinate la pasta a vostro piacimento mettete qui dentro quando è cotta la pasta una bella spolverata di formaggio e buon appetito grazie a tutti